ciao ragazzi io sono war daddy questo qua è un episodio di brothers in arms giordi 2 il 30 dove dove dovremmo distruggere questi sparagi di rommel che sarebbero dei pali di legno che avevano l'utilizzo durante la guerra contro gli alianti praticamente l'aliante cadeva cioè atterrava perché doveva atterrare e colpito questi pali e veniva fuori un bel bot è stato preso ti dici che qua è stato preso ti dici che qua è stato preso non vado con facciamo fuori di rispia si può colpirmi l'imagine se che può colpirmi l'imagine dobbiamo fare fuori stia sparagi di me forza forza non è facile sta missione bisogno sotto il fuoco di super sione difficile aia ma qua è difficile ragazzi molto difficile forza 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 ah avanti tedeschi cosa c'è volo mettete attenti voi con quelle mg che ho provato ad un assalto c'è giù tedesco alle andate anche ne arriva un altro ora facciamo saltare i pali tutti i pali che sono con gli alienti non vengono giù e fanno un disastro ammazzando tutto l'equipaggio non c'è distrutto un po' di pali se quelli vengono sotto scacco le mg io posso lavorare in pace tutto quello che avete sparati non c'è distrutto un po' di pali non c'è distrutto questi pali è un po' come Brothers in armi è un po' come vedo un Brothers è uscito 4 anni dopo perchè vedo un Brothers la serie era nel 2001 qua cosa faccio non c'è una granata se riesco vediamo Gli arriva? No. Granate, sentite. Com'è adesso qua? È andato, ragazzi, venite di qua allora. Forza. Grazie all'esplosivo. Va conti agli anti. Speriamo che non succeda niente di brutto. Ok. Ma che lavoretto a modo. Infatti quello non è in copertura. Sarebbe carino se si mettersi in copertura. Ok. Adesso, muoversi. Tato? Ok. Libero la spazio per far atterrare l'alliante. Eccolo qua. Più spazi così. Il campo est è atterrato. Piano. I tedeschi. I tedeschi, andatela, andatela, ragazzi, andatela. Fornite fuoco di copertura. Io ci riesco. No. Purtroppo no. Oddio. Andiamo. Mi sa che dovremmo eliminare anche le calibro 20. C'è le mitragliore da 20. che cavolo. Dobbiamo passare da qua. Cosa dobbiamo fare? No, ho sbagliato. Dice cosa dobbiamo fare? da quella parte. Se lo dice. Veloci laggiù. Colpite quella zona. Pietro il carretto. Uno è andato. Oddio. C'è un MG là? No, eh. fuoco di sparramento. Vuol dire che c'è un MG. Se c'è un MG. Faccio fuoco. Andato. Andate laggiù. Faccio fuoco. Ho minchia. Ho dato poche le cariche. Ah no. No, ho un po'. Ok. Si sono mosse. Oh. Ragazza qua. Andate laggiù presto. Mi servite laggiù la testa e andate. Tutti qui. No. Vedete che si sono buggati. Si sono buggati. Andate subito. Ah ma allora si è rimasto. Vabbè. Garnet. Muoviamoci. Si è buggato Garnet. Non so. Quindi. si è riuscita. Eeeh. In copertura laggiù. Fuoco. Fuoco su quei cruchchi. Già c'è di qua. 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 Da quella parte. Di corsa. No. In questa qua no. Già c'è qua. Andate qua. Andate qua. Andate qua. Andate qua. Cerco di... di fare il giro, ma... Maledi... Oddio, ce ne sono altre, ma quanti ce ne sono? Facciamo fare un po' di asparagiri, Rommel... Dai, fai, piazza... Lo capisco perché si sia bloccato... Spero che non mi... Implica l'handicap nella missione... Ok, devo fare il giro... Come dire... Ok... No, 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 no... C'è un cugent... Eh... Oh, lì, mi piace a farare! Non posso farare, d'acqua, d'acqua! Ehi, mi trovo... Ah, c'è un pa... Ecco... Non posso colpire quel giro! Uhhh... è stato preso quello lì? l'ho preso? no! maledizione! c'è un altro! stupido! oh! ok, quello è andato! ok, questo è andato, questo è andato! dobbiamo far fuori le aspargine romani, dacci lì, quello è rimasto là, questo è buggato! ho preso un sacco di vita però, se giù la vede uno ok, l'altro è distrutto! ok, andiamo alla prossima bustazione! ho messo in maruccio, non mi ricordavo così difficile! ok squadra, tutti qui! mi servite laggiù! no, rimanece qua, rimanece qua! andate laggiù! rimanece di a fare copertura! provo a fare giro, se riesco! qua non si può! sarebbe stato troppo bello! no, non mi colpite, non mi colpite! no, ok! bisogna usare tecniche di attacco, perchè non puoi andare a musolo e sparare i tedeschi! che sennò ti ammazzano subito! ho ancora una granata però! guarda che la c'è gente! guarda! no! quello, quello quello! car, no! l'ho preso! forza! via via via! forza ragazzi! muoversi! 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 Ma chi stanno sparando? Ah, forse ho quell'idea. Ma sono bravissimi. Ce ne sono. Non c'è una granatina? Quanto casino. No. Occhio che ci ammazzano. Abbiamo uno sfrutto di vita. Non è facile. Forza, forza. Dobbiamo girare l'intorno. Mi ne seguo il consiglio. Andate. Infatti. Quanti ricarichi ho? Non molte, mi sa. Ok. Ah, devo distruggere le altre sparaggi, mi sa. Un po' di pulizia. Intanto io faccio un po' di pulizia. Questo dovrebbe essere una missione. Poi c'è anche la visuale tattica. Perché adesso non mi ricordo il tasto. Però da lì puoi vedere Che tipo di nemico hai contro. L'obiettivo, eccetera. Adesso non mi ricordo che tasto è. Magari lo faccio vedere nel prossimo episodio A visuale tattica. Così dopo il video vedo le opzioni fuori. Così ho apprezzato lo vediamo insieme. Faccio vedere come funziona, eccetera. Molto semplice comunque. Una cosa che Cioè io Non l'ho mai visto in altri giochi. Poi potrei sbagliare. Per carità. Ok. Vediamo. Tac. Ok signori. Questi li abbiamo distrutti. Adesso non so se Li vogliamo fare altro. Distruggi i panini al campo ovest. Altro da fare. Cioè mi sa. Se viene fuori un altro obiettivo. No sono tanto a muovo. Muoviamoci. Libera la spazio Per far tirare l'agliante. Eh. Ah oddio. Stavo per ammazzare. Che spavento. Quello ce l'hanno fatta. Sì. Ce l'hanno fatta atterrare quelli. Aggiungi l'agliante per completare la missione. Forza ragazzi. Seguitemi. Seguitemi. Ce l'abbiamo fatta. Quello lì sono morti però. Quei due che sono atterrati lì. Che c'erano i sedischi. Quello penso che abbia preso uno steccato. Eh. Si è spasciato tutto. Questo è entrato in tiro. Ce l'abbiamo fatta. Si è stati bravi. Eccoci qua. Chi è arrivato? Sono tutti bene? Di qua. Amico. Credevo di essere fottuto. Grazie per l'aiuto. Mi vedevo già infilzato come un pollo. Ma va tranquillo. E l'altro? Ehi. Tu sei della 502? Io sono qui per rifornirvi. Ho delle munizioni dentro. Prendi quello che ti serve. Ah grazie. Gentile signore. Completato. Si prosegue. Qual'era questa qua? Ma no. Quanti ricordi. Virville? Non riuscivo a dormire. Così ho controllato che i ragazzi di guardia fossero svegli. Al buio non riesce a non pensare a casa. Pensavo a George. A quando lanciavamo bottiglie in un torrente dietro casa sua e davamo la colpa ai bambini del vicinato. A come finivamo sempre per correre dietro le stesse ragazze. Al fatto che adesso potrebbe essere morto. E io non lo saprei nemmeno. Piccolo spoiler. Lo incontriamo più avanti George. Beh. Più che altro stavo lì a passare messaggi radio dai superiori a Mac. Ho visto i crocchi solo alla fine. Mattinata pesante oggi, eh? Dov'è? Baker, sta arrivando un autoblindo M5 per assisterci. Oh, che bello. Provalo e liberate la città. Non so quanti crocchi ci siano in zona, quindi occhi aperti. In bocca al lupo. Non so se c'è zitto il tasto. No. No. Red, tutti qui ora. Andiamo. Avvia un altro tasto. Mi è semuto. Pote in fretta. No. È ora di nuovo. Grazie a incontrare il comandante del carro armato. In copertura laggiù. Cioè, aspetta. Aspettate un attimo che vediamo quale sia il comando. Comandi. Vediamo. Categorie movimento. Azione. Azione ricarica. Visual e tattica. Mettiamo V. Applica. Mettiamo V così almeno ve la faccio vedere adesso. Questa qua è la visuale tattica. Adesso vediamo Baker. La squadra che abbiamo. La squadra a fuoco. Garnetal e Narsok. Il posto che dobbiamo liberare. Il villaggio. Dobbiamo il comandante del carro armato. Dobbiamo liberare. Che è? Qui? Qua dice. Vabbè. Molto semplice la visuale tattica. Tedeschi? Dove? Sentite che ho. No, no, no. Passate di qua, passate di qua, raga. Vediamo, eh. Sono lì qui. Dice andare di lì. Dice che possiamo non seguire la bussa. O no, Tedeschi? Tedeschi, raga. Tedeschi. Guarda. Ho sentito un portello che si chiudeva. Ho sentito un portello che si chiudeva. No, quella parte. Non ne vedo altri. Vedete qua, ragazzi. Oddio. Ti salvo sempre la pelle, Matt. È George. Dimmi cosa vuoi che faccia e lo farò. Consideremi della squadra. Grande George. Ora, saggente Rismal e il suo carro armato fanno portare la tua squadra. Comandante del carro. Segurati ordini con la squadra a fuoco. Vabbè, solite robe. Puoi usare anche la mitragliatrice, eh. Se non mi sbaglio. Ok. Se il tuo carro armato viene distrutto, la missione fallirà. Quindi, occhio. Come faccio a switchare la squadra? Aspetta. Mi ricordo più. La switch a squadra. Opzioni. Comandi. No. Ancora che sbaglio. Comandi squadra a carro. Comandi squadra. Cambio squadra. Allinearsi. Ok. Questa qua è la squadra a fuoco. Quindi. Adesso andiamo a liberare la zona. Sì, qua. Viene. Ok. Il prossimo ultimo è la squadra. Città di Sancombe du Mo. E andiamo. Andiamo. Liberiamo. Allora. Allora, seguitemi. Muovetevi. Di qua non credo. Mi servite laggiù. Andate, subito. Muovetevi. Perché penso che ci siano anche... Muoviti presto. Vai, Rissner. No. Oddio, anche di qua. Ma quanti ce ne sono i tedeschi? Maria. Vieni fuori. Andate. Oh, cavolo. Ma non sono andati quelli là? Rissner. Mi serve ancora... Da quella parte, a tutta birra. Andate per ca... Oggi diavolo sono. Sono andato. Cos'è stato? Passa di qua. Non passare di lì. Passiamo di qua. Vieni, Rissner. Vieni, vieni, vieni. Forza, vai la... Piazzati laggiù. Vieni, vieni, vieni. Senti, vieni. Sentito, vieni. Bravo. Colpiteli. Rissner. Da quella parte. Rissner, colpiscilo. Colpiscilo, quel caro, vai. Grazie. Grazie, dai, dai, dai. Sì, vieni. Grazie. Mi serve un corazzato qui. Mi serve laggiù. Red! Via! Oh, cazzo. Vai, vai. Rissner, vai avanti. Da quella parte. Oh, merda. Dato. Vale. Cosa c'ho di secondaria? Thompson, perfetto. Allora, io direi di spostare il carro. Ci sono altri tedeschi qui. Sulla strada principale c'è qualcosa, no? Squadra Fuoco Squadra Fuoco Andate laggiù, andate laggiù, presto! Squadra Fuoco, andate lì. Anticarro! Dove? Capisci, no? Anticarro. Piazzati laggiù! Finito le polizioni! Arriva, dai. Ula! C'è gente. Muoviti presto! Si è girato il pack. Allora, ragazzi, voi... Potete muovervi... Fate fuoco di... Non riuscire a prenderlo, quando... Ok. Puccio, non altro! Ok. Andiamo! Andiamo! Non so, non so, non so... No, no, ho sbagliato. Spostatevi laggiù! Muovetevi! Muoviamoci! Da quella parte! Svuotate i caricatori! Ok. Fate in fretta! Muoviamoci! Ricevuto! Non spiegate munizioni! Aspettate di vedere il bianco degli occhi! Ok. Da quella parte! Di corsa! Andiamo! Ricevuto! La copertura è laggiù! È ora di muoversi! Ok! Da quella parte a tutta birra! Cazzo! Sto facendo il giro! Ma Stug è forte! Mi serve un corazzato qui! Mi serve un corazzato! Uh uh uh! Vuotate i caricatori! Colpiscilo, colpiscilo! 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 Oddio! Via! No! Ho sbagliato! Red! Mi servite laggiù! Muoversi! Avete sentito? Muovetevi! Fatelo secco! Red! Andate laggiù! Presto! Da quella parte! Via! Via! Andate laggiù! Una base di fuoco! Laggiù! Ora! Non posso riuscire! Sta là! Via! Andiamo! Fuoco di sparramento! Fuoco di sparramento! Forza! 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 Vieni qua! Squadra! Stimitri! Mi serve un corazzato laggiù! Mi servi laggiù! Continuate! Vuol dire che fa il giro l'altro! Poi facciamo il giro noi! Muoviti! Metti in moto! Quella copertura non ti servirà per moto! Forza! Vai laggiù! Questi sono tutti per te! Muoco a volontà! Mi serve un corazzato qui! Attaccateli! Non c'è! Andiamo, Steward! Via! Qua! No, ho fatto il giro quello là! Da quella parte! Si è incastrato! Attaccate quel figlio di puttana! Forza! Forza! Dai, dai, che lo stu... Si è incastrato! Mi servi laggiù! Muoviti presto! Oh! Restiamo vicini! Mi serve un corazzato laggiù! Cavolo! Fate fuori quel carro! No! Parcheggiati laggiù! Si viene qua il carro! Oh, vieni! Da quella parte! Capisco perché non volesse andar di là! Eccolo là! Piazzati laggiù! Che fa il giro! Metti in moto! Sparamento su quel carro! Colpisci! Colpisci! No! No, no! Non esisti! No! Quale è? Ce l'abbiamo fatta! Grande Stewart! Quindi... Puoi difendere se ha contrattato? Cavoli! Come lo ha contrattato a coi tedeschi? Raggiungete quel riparo! Giù la testa e andate! Vai! Maledizione! Metti in moto! No! Qua sarà dura! Quindi lo dobbiamo difendere? No! Ne arriva un altro! Ci distuggono il carro! Come te lo dico io! Arriva un altro stug! Dobbiamo metterlo in modo... Ce ne sono degli altri! Ci sarà dura! Porca puttana! Fermatelo a tutti i costi! Facciamo che c'è solo questo! Sto che tra Ausp e M! No! Auspa! Perché ho detto M! Non lo so! Dice che c'è il cannone lungo! Invece è corto! Va bene! Dettaglio! No! No! Fanno fuori! Me la lo vena! E' andato! Grande riservi! Grandi ragazzi! Avevo qualcos'altro! Non si sa mai che se ne arrivasse un altro! Penso che ne immagino solo uno! Granata un po' corta! Non posso... Che cavolo! Perché? Vai vai! sono grande vediamo qualcos'altro vabbè, l'abbiamo fatto in tempo ce l'abbiamo fatta la città di Berville i generisner sono caso armato quando avrà stato finito dovrà andare a confessare eccoci qua, siamo arrivati ehi, ho sentito via radio che quattro della Fox le stavano suonando ai tedeschi ho capito subito che eri tu, Matt è bello rivederti vivo c'è un incrocio un po' più avanti sulla mappa non appare il nome ok, muoviamoci, state vicini e non succederà niente questo è perfetto facciamo continua e poi stoppiamo io e George eravamo seduti dietro sul suo carro armato abbiamo parlato per un'ora di casa nostra mangiando il rancio una volta tanto non faceva schifo è stranissimo essere in guerra assieme al tuo migliore amico ti senti quasi invincibile come se niente potesse fermarti nell'avanzata verso Berlino per tornare a casa sano e salvo e invece ok, ragazzi, questo qua stoppiamo questa missione si chiama l'angolo del morto e poi alla fine scopriamo il perché ma lo vedremo nella prossima puntata se il video vi è piaciuto mettete mi piace se vi piace quello che c'è nel canale iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo episodio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti